Dopo la pausa estiva nel mese di agosto, la metropolitana di Torino a Leina M1 ha ripreso la sua funzione. Sono già arrivate decine di segnalazioni da parte dei lettori, tra ascensori fermi e scale che sono nuovamente immobili. In particolare, si sono registrati dei disagi nelle fermate di Porta Nuova, Racconigi, Monte Grappa, Piazza Bengasi, Marconi, ma anche Porto Susa. Infine, durante la giornata, diversi minuti, la metropolitana è rimasta ferma, ovvero non c'è stato il servizio, con tanto di messaggio audio che veniva diffuso nelle stazioni.